Valencia è una magica miscela di tradizione e modernità. Questa città spagnola ha più di due millenni, ma è ancora piena di energia. Di notte piazze e palazzi brillano, e così le auto. E sembra che quel particolare lucchichio abbia origine proprio qui, a Valencia. Matrival è un fornitore del settore automobilistico, produce parti cromate per auto, come le griglie dei radiatori e i loghi. Molte grandi aziende automobilistiche si affidano a Matrival per il lucchichio dei particolari cromati. E Matrival si affida a Atlas Copco. Matrival è stato fra i primi a installare il nuovo compressore Atlas Copco GA55 VSD+. Una macchina rivoluzionaria, con un innovativo assetto verticale e motore a magneti altamente affidabile. Non è la prima volta che Matrival si affida a Atlas Copco. Ci conosciamo da tempo, qui ci sono molti compressori Atlas Copco di generazioni precedenti. Matrival sa che siamo un partner affidabile, manteniamo sempre le promesse. L'aria compressa di qualità è vitale per Matrival. Viene usata in molti processi e da molte macchine. E nel settore automobilistico, meglio evitare le scorciatoie. Per ragioni di qualità, le aziende automobilistiche preferiscono lavorare con fornitori che controllano il processo completo. Per questo Matrival ha acquisito un'azienda di cromatura. Anche per Atlas Copco, la qualità ha lo stesso valore. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Questo compressore ha un design unico, il nostro, che i concorrenti non possono imitare. Il nostro controllo qualità su ogni singola parte della macchina è approfondito al massimo. Il compressore è stato collaudato e testato a lungo. Non vogliamo far perdere tempo ai clienti. Matrival ha scelto il nuovo compressore GA-VSD Plus di Atlas Copco anche per un'altra ragione. Nel caso di Matrival, le dimensioni contano, le piccole dimensioni. Per portare il compressore nella sala c'è solo questo piccolo ascensore e un normale GA-VSD non ci sarebbe entrato. Il GA-VSD Plus è molto piccolo, occupa poco spazio e i Matrival sono riusciti a trasportarlo senza problemi. Le prestazioni del compressore sono eccellenti, per un piccolo ingombro. La sostenibilità è una delle parole d'ordine in Atlas Copco, altrettanto importante per Matrival. Il rispetto per l'ambiente è una delle priorità di Matrival, che abbraccia politiche sostenibili. La sua sede è adiacente a uno dei più bei parchi naturali di Spagna e desidera che rimanga così. Le prestazioni impareggiabili del GA-VSD Plus non vanno a discapito dell'ambiente. Con il nuovo GA-VSD Plus, Matrival rispetta i suoi obiettivi ecologici. Il motore permanente a magneti con azionamento a velocità variabile regola la produzione di aria in base alla richiesta, riducendola quando la domanda si riduce e risparmia energia. Molta energia, Matrival prevede un risparmio medio del 50%. Questo compressore salva l'ambiente e fa risparmiare denaro. L'energia ha sempre un prezzo, per l'utente, ma anche per l'ambiente. Il risparmio che Matrival realizza è una grande conquista ambientale. Minore consumo di energia, meno inquinamento. Matrival cercava un fornitore di compressori ad alta affidabilità e dimensioni ridotte. La soluzione è stata semplice. Il compressore GA-VSD Plus di Atlas Copco.